Ciao a tutti da Matteo di Audiocostruzioni, oggi parliamo come al mio solito di streamer, in particolar modo streamer della ROSE, marchio coreano che è diciamo a cerrimo di amico di cocktail audio con cui ha alcune features in comune ma tante altre molto molto interessanti. In questo caso parliamo di ROSE RS150, il top di gamma, lo streamer top di gamma appunto della ROSE. Vi ho già presentato su questo canale il ROSE RS201e, il modello più piccolino che aveva un listino intorno ai 1800€, se ricordo bene, che aveva anche l'amplificatore da 50W in classe D incorporato e aveva ovviamente tutte le funzioni di streaming incorporate. In questo caso abbiamo il top di gamma, come si vede si vede proprio che è un top di gamma perché abbiamo un display frontale da 14.9 pollici e come vedete appunto le dimensioni dello chassis sono molto molto più importanti. Parliamo subito di prezzi, 3900€ il prezzo di listino, è un listino molto importante ma alla fine del video forse avrò convinti che il prezzo è giustificato perché per l'appunto abbiamo una miriade di funzioni e soprattutto da un punto di vista sonoro vi lascerà stupiti. Come vi dicevo prima abbiamo tutte le funzioni come streaming incorporate, quindi lui si connette in automatico alla rete o con wifi, abbiamo il bluetooth oppure con ethernet e possiamo collegarci a Tidal, Kobud. Da poco tempo Francesco di Polaris Audio mi ha parlato del fatto che è stato incorporato Kobud all'interno di queste macchine quindi possiamo ascoltare tutti i file a 16 o a 24 bit all'interno in maniera completamente nativa e inoltre abbiamo la funzione di Tidal di unfolding dell'MQA totale, completo, quindi leggiamo l'MQA esattamente come è stato inciso senza particolari problematiche. Dopo abbiamo tutte le funzioni video che andremo a vedere successivamente, quindi funzioni che possiamo interfacciarci o ad una televisione, quindi ad esempio abbiamo Sky, abbiamo Mediaset e vogliamo guardarci il film col nostro impianto a due canali comunque con un impianto appunto di buona qualità senza andare a spendere e a investire soldi in un impianto audio video oppure possiamo utilizzandolo quindi come il suo DAC interno che è di qualità molto elevata oppure possiamo con l'applicazione integrata YouTube possiamo appunto ascoltare e guardare i filmati che ci sono sul display frontale da 14,9 pollici in maniera completamente nativa e soprattutto gratuita. Abbiamo poi i podcast e abbiamo tantissime altre funzioni al suo interno. Parliamo un attimo del DAC, il convertitore al suo interno è un convertitore AK che ha un nome strano che poi dopo troverete nelle caratteristiche tecniche sul nostro sito con la scheda dettagliata. Rispetto al ROS RS201 che ha un DAC di un altro marchio, in questo caso il DAC della AK generalmente viene denominato come un DAC più caldo, più caloroso quindi con un suono più vellutato, mentre il modello inferiore, sempre della casa coreana della ROS, generalmente ha un suono un pochino più dettagliato, più preciso. Adesso ci avviciniamo e lo andiamo a vedere più nel dettaglio. Eccoci, come vedete nel frontale, l'avete già visto, il fattore dell'acquisto di un prodotto del genere è molto probabilmente anche il display IPS full HD, sembra meglio di una televisione, da 14,9 pollici. Possiamo vedere, adesso in questo caso stiamo riproducendo un brano che ho memorizzato su un hard disk esterno quindi dopo vi faccio vedere come si collega un hard disk esterno nella parte posteriore e possiamo vedere la copertina, il nome della traccia, come vedete è un file DSF, quindi un DSD nativo 64 può leggere i file DSD fino a 512, tutti i file MQA, file fino a 32 bit, insomma tutto quello che vogliamo una vera e propria figata sono i Vmeter che noi abbiamo e possiamo riprodurre in maniera enorme e soprattutto possiamo anche cambiare il colore dei Vmeter andando magari a scopiazzare un pochino la Macintosh prendendo un Vmeter analogico oppure anche i Vmeter blu, insomma è una vera e propria figata. Tornando invece nel menu principale con questo tastino qua, vedete qui abbiamo tutte le funzioni come vi dicevo abbiamo implementato finalmente Kobuz all'interno RoseTube possiamo entrare dentro YouTube YouTube all'interno è senza pubblicità hanno stretto un contratto Rose con YouTube in modo che per l'appunto non ci siano pubblicità prima dei video che ci disturbino la visione noi gli diamo un play, adesso ascoltiamo un brano coreano sicuramente sarà stupendo e andiamo a vedercelo mentre lo ascoltiamo col nostro impianto a due canali possiamo anche mandare il video alla tv se l'abbiamo collegato con l'HDMI senza particolari problemi torniamo indietro torniamo indietro, c'è anche il telecomando, adesso vado tutto col touchscreen musica, la figata della reparto musica che adesso non ci ho messo niente perché questo è un Rose che ho già venduto e quindi non voglio andare a intaccarlo per il prossimo cliente che vuole inserire la sua libreria musicale praticamente il Rose ci fa le funzioni che ha Rune Rune sapete l'applicazione famosissima che ci permette di inserire tutti i brani all'interno di un'unica libreria musicale in questo caso con il Rose facciamo la stessa identica cosa cosa intendo? io magari ho tanti brani provenienti da in questo caso un harddisk esterno quindi da Toshiba un NAS esterno, una pennettina USB, alcuni file che sono da qualche altra parte su un harddisk interno che si può montare senza problemi lui unisce tutti i brani e me li fa trovare nel database qui tutti i compilati, tutte quelle copertine se le abbiamo aggiunte, tutti i nomi dei brani e io comodamente da un unico posto ho inserito o all'interno tutti i brani che voglio avere nella mia libreria musicale quindi è una funzione che con Rune si paga molto qui è ovviamente tutta integrata all'interno del proprio software dopo abbiamo il radio, abbiamo delle impostazioni molto interessanti che mi permettono di abilitare o disabilitare alcuni ingressi, alcune uscite una cosa che adesso andiamo a vedere insieme molto interessante, possiamo ovviamente andare a vedere il tipo di unfolding di MQA il file, l'uscita I2S, tutte le varie risoluzioni i DSD che possiamo riprodurre in native DSD insomma possiamo fare praticamente quello che vogliamo questa è la cosa bellissima abbiamo le uscite XLR quindi bilanciate e possiamo impostare il livello di pre-out quindi possiamo impostare millivolt in uscita in modo da bilanciarlo nel nostro amplificatore magari con un altro lettore CD che abbiamo quindi evitando problemi di gain tra un ingresso ed un altro una caratteristica molto importante possiamo anche disabilitare come dicevo all'inizio ingressi e uscite in modo da configurarlo assolutamente come vogliamo noi abbiamo la riproduzione di CD e i ripping dei CD come anche nel RS201 ma anche come nei cocktail audio colleghiamo un masterizzatore esterno quelli da computer e possiamo ripare al proprio interno tutti i CD impostazioni, va bene abbiamo sempre la radio e poi dopo altre funzioni interessanti le più importanti secondo me sono Tidal e Kobuz eccoci, qui siamo sul mio telefono come vedete abbiamo l'applicazione che si chiama Rose Connect Premium con cui ci possiamo configurare e possiamo dare tutti i comandi che vogliamo direttamente dal telefonino se non vogliamo utilizzare il touchscreen e se non vogliamo utilizzare il telecomando andiamo nell'applicazione che si chiama Rose Hi-Fi eccoci qua abbiamo tutte le funzioni che vi ho mostrato prima quindi non sto a rifarvele vedere ad esempio qui siamo dentro a Rose Tube e abbiamo un sacco di roba che possiamo vedere e dare i comandi direttamente dal telefonino possiamo anche controllare le varie funzioni screen, spegnerlo, il volume e tutto quello che vogliamo eccoci nel retro della macchina come vedete rispetto al RS201 che vi ho già presentato abbiamo tante funzioni in più non abbiamo l'amplificatore qui all'interno quindi paghiamo esclusivamente uno streamer e tutte le varie funzioni che ci sono al suo interno ovviamente abbiamo la vaschetta d'alimentazione con la VDE e con anche il fusibile in caso in cui ci sia un cortocircuito andiamo per prima di tutto a vedere che il fusibile sia integro poi dopo abbiamo parliamo degli ingressi e uscite digitali questi qui sono le AES e BU ingressi molto particolari sia in ingresso sia in uscita HDMI ARC in ingresso dopo abbiamo anche l'HDMI in uscita che è questo qui nell'angolo poi dopo abbiamo gli ingressi e le uscite I2S sono molto particolari anche questi ingressi probabilmente non utilizzati da molti ma ti danno delle caratteristiche molto molto interessanti ingresso USB nel caso in cui noi lo vogliamo utilizzare come DAC quindi abbiamo ad esempio un computer lo colleghiamo con l'USB e possiamo comandare i file che abbiamo sul computer all'interno del nostro player utilizzandolo quindi solo come convertitore poi dopo abbiamo sempre ingressi coassiale e ottico in ingresso uscita coassiale e ottica quindi se vogliamo utilizzare magari un giorno un convertitore che può essere aggiornato che può essere di qualità molto migliore rispetto ad un ROS anche se la qualità qui è davvero eccellente ingresso in input line-in RCA se vogliamo digitalizzare qualcosa come può essere una bobina come possono essere altri diciamo formati analogici le uscite RCA come vedete dei bellissimi connettori analogici e anche bilanciati quindi XLR come vi facevo vedere prima HDMI l'USB-C poi dopo abbiamo USB 3 la microSD che possiamo inserire se vogliamo inserire appunto invece che una pennettina USB una microSD ingresso Ethernet per collegare direttamente la rete e USB Bluetooth dongle che è nella scatola allora la domanda che mi viene posta molto spesso quando i clienti vengono qui in negozio è ma acquistando uno streamer del genere magari hanno già un lettore CD di livello molto alto come può essere un Aquaface, un Macintosh, un Copland o tanti altri marchi acquistando uno streamer del genere io posso rimpiazzare come qualità un mio lettore CD a cui magari ci sono affezionato ma voglio andare verso una questione di musica liquida di friabilità molto maggiore senza avere il problema dello spazio fisico occupato dalla libreria dei miei CD qui vi ho imbastito quindi una prova con un lettore CD usato che abbiamo dell'Aquaface un DP77 che proponiamo un prezzo usato ce l'abbiamo solo ora di 3.900 euro il Rose più o meno come cifra siamo lì intorno andiamo a vedere se con un prodotto del genere riusciamo a rimpiazzare da un punto di vista qualitativo il nostro vecchio o meglio trusted come dicono in inglese fidato lettore CD andiamo a fare la prova utilizziamo gli stessi identici brani utilizziamo Musical Fidelity NuVista 600 amplificatore integrato da 200 W per canale Martin Logan Motion 40i un prossimo video e un prossimo video di come ben sapete da casa è molto complesso sentire le differenze qui in negozio le differenze le abbiamo sentite si sentono abbastanza bene il lettore cd acuphase risulta essere leggermente più morbido più vellutato ma è normale i cd acuphase suonano sempre in questo modo se ricercate questa timbrica solo questo marchio potrà darvi delle caratteristiche sonore così se però lo andiamo a confrontare da un punto di vista puramente della risoluzione del dettaglio e queste caratteristiche sonore ragazzi siamo davvero molto molto vicini come dicevo prima l'acuphase è un pochino più morbido i bassi sono più vellutati con rose abbiamo un suono più dettagliato più incisivo ma può essere anche dato dall'abbinamento rose con il musical fidelity che magari da un timbro del genere l'acuphase essendo appunto morbido il musical fidelity è abbastanza morbido come suono si vanno a incupire un pochino il suono senza mai essere ovviamente troppo cupi quindi stiamo parlando di prodotti di gamma molto molto alta quindi qual è la risposta? no con un rose rs 150 non rimpiangiamo secondo me un lettore cd del genere sono entrambe macchine di livello altissimo sono entrambe macchine che sono risultato di ingegnerizzazione agli estremi e che non ci potranno mai deludere perché acquistare un rose e non un altro prodotto magari di un marchio più blasonato come può essere un cambridge audio di gamma molto alta oppure ci sono anche altri streamer la questione è una sola la qualità sonora è molto alta come abbiamo appena visto ma l'usabilità è agli estremi abbiamo un touchscreen abbiamo uno schermo enorme enorme possiamo utilizzarlo dal divano dalla sede in cui siamo seduti senza problemi con l'applicazione non si impalla mai si aggiorna sempre questi coreani si stanno andando da fare come avevo detto nel rs 201 davvero tanto tanto ogni giorno abbiamo degli aggiornamenti una funzione nuova un qualcosa di nuovo è una macchina completissima secondo me distrugge ogni streamer che c'è al di sotto di lui è uno dei migliori prodotti che io abbia mai testato e sentito negli ultimi anni va bene io vi saluto e vi ringrazio ci vediamo al prossimo video ciao da Matteo